La questione dell'isippo è molto importante per la città di Fano, nel senso che vediamo un'assoluta fermezza da parte del Comune che non sta facendo niente in questo momento per attivarsi e farlo tornare a Fano. Il Sindaco aveva istituito ad aprile dell'anno scorso il Comitato per far tornare questo lisippo, però dalla prima convocazione non si è fatto più niente, non è stato più riconvocato. I giorni scorsi il Seire ha detto che si sarebbe riattivato, lo avrebbe riconvocato, ho capito, però fino ad oggi non si è fatto niente. Il Ministro Bonisoli quando era venuto a Fano in campagna elettorale aveva garantito che lo avrebbe fatto ritornare, però ci aveva proprio chiesto, voi siete pronti per prenderlo, datevi da fare, fateci dei progetti. Noi vorremmo sapere, i progetti ci sono? Il Sindaco si sta dando da fare? Perché l'altra sera ha dichiarato se torna a Fano lo mettiamo nella sala Morganti. Bisogna avere una visione un po' più importante sull'isippo, perché intorno all'isippo Fano potrebbe sviluppare il suo futuro turistico, economico e sociale. Noi speriamo che si mettono in campo tutte le azioni per fare in modo tale che l'isippo abbia una giusta collocazione, perché bisogna dargli un grande risalto per una visibilità fanese sia nazionale che internazionale. Sabato scorso c'è stata una conferenza stampa a Pesaro per promuovere il ritorno dell'isippo in Italia. C'è proprio un sito che si chiama lisippoinitalia.it, per chi vuole può sottoscrivere questo ritorno per appunto pressare il ministero per darsi da fare e per farlo ritornare. La conferenza è stata fatta a Pesaro da un'associazione culturale di Urbino. Non vorremmo che Fano si facesse scippare anche questa grossa opportunità, perché ripeto, l'isippo va visto come una cosa importante dal punto di vista culturale, ma anche sociale ed economico per la città. Allora il sindaco Seri, la giunta, in questo momento è totalmente ferma. È ora che si dà da fare per davvero pressare il ministero per riportare l'isippo in Italia, ma a Fano. Quando porterete in comune questa interpellante? Allora, l'abbiamo protocollata due giorni fa, però per il consiglio che ci sarà il 14 non si faceva in tempo a discutere, anche perché c'è un consiglio abbastanza corposo. Sarà nel successivo consiglio comunale. Grazie. 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 Grazie.